rieccoci qui su canno tv per continuare a parlare di 45 giri italiani del tempo che fu questa volta ci occupiamo di un disco del 1965 inciso per la rca italiana da gianfranco michele maesano in arte semplicemente michele eccolo qui il 45 giri in questione che presentava sul lato a credo ti senti sola stasera e sul lato b dopo i giorni dell'amore credo che ti senti sola stasera fosse il singolo trainante di questo appunto 45 giri inciso da questo cantante che all'epoca era noto soltanto come michele lombardo di nascita trasferitosi a genova era stato notato per la sua voce anche piuttosto profonda insomma calda vibrante era un po uno dei tanti epigoni di elvis secondo me presenti all'epoca aveva una tonalità molto simile a quella di bobby solo anche se secondo me inferiore proprio bobby solo fu un altro di quelli che incisero ti senti sola stasera ovvero cover di are you lonesome tonight di elvis presley grande appunto successo di elvis ricantato in italiano in primis da bobby solo e poi proprio da michele appunto che lo incise nel 45 giri di quell'anno era un cantante michele che aveva avuto già dei successi in ambito appunto della musica leggera italiana se mi vuoi lasciare probabilmente fu il suo singolo di maggior successo anche quello con cui diciamo lui arrivò ecco alla notorietà nazionale altri successi interessanti ad esempio dite a laura che l'amo anche questa però cover di un di una canzone straniera e michele di cover di traduzioni italiane diciamo di canzoni straniere traduzioni anche che spesso e volentieri stravolgevano l'intero senso l'intero significato della canzone ne esegui parecchie forse è per questo che non è molto rimasto diciamo nella memoria musicale degli italiani non è stato fra i cantanti di quegli anni che sono poi sopravvissuti al tempo anche se all'epoca andava forte con queste tonalità profonde diciamo avvolgenti che lo rendevano perfetto per quei lenti da mattonella che andavano appunto di moda a quei tempi michele peraltro era figlio di una cantante lirica ed iniziò facendo rock and roll quindi appunto a tutti gli effetti una carriera diciamo basata sulla musica di Elvis fondamentalmente che partendo appunto dal rock and roll o perlomeno dal rock a billy ecco dal rock and roll country e giante si era poi spostato anche su lenti romantici quali appunto quelli che cantò michele la canzone più nota di questo 45 giri appunto è ti senti sola stasera in cui vi è anche una parte parlata canzone appunto incisa anche da bobby solo appunto cover di are you lomsom tonight di elvis presley secondo me la versione di michele è un po più carente rispetto a quella di bobby solo che riusciva a dargli insomma una diciamo una delicatezza ecco che forse nella versione di michele ci ci rivedo un po meno un po più più spigolosa un po meno fluente ecco rispetto a quella di bobby solo che che aveva secondo me anche dei dei cambi di voce un po più interessanti rispetto a quelli di michele una padronanza vocale secondo me un pochino più efficace il lato b del del vinile o perlomeno quello che io credo ecco essere il lato b del vinile invece è interessato da dopo i giorni dell'amore che io trovo forse più interessante come canzone credo l'abbia incisa soltanto michele ma potrei sbagliarmi perché all'epoca le canzoni erano soliti essere eseguite diciamo da più artisti contemporaneamente c'erano più più versioni appunto dei delle delle stesse canzoni cantate ricantate da artisti differenti io giudico forse un pochino più interessante anche proprio dal punto di vista vocale un po meglio eseguita ecco dopo i giorni dell'amore che a mio avviso rimane fra le due quella più interessante se non altro perché di ti senti solo a stasera c'è la versione di bobby solo che a mio avviso è più bella molto banalmente di quella di michele stiamo comunque parlando di un cantante tuttora in attività che ha avuto anche successo al pari di tanti altri artisti nostrani al di fuori dai confini nazionali ha raggiunto paesi esteri come ad esempio persino la romania e per cui un cantante dalla dalla carriera comunque molto interessante a mio avviso che è comparso persino in in ambito cinematografico in alcune pellicole dell'epoca fra cui una diretta da mario amendola questo era la recensione così del tutto informale di questo 45 giri anch'esso reperibile nel mondo dell'usato ebbe un successo diciamo più contenuto rispetto a vivrò di alain barriere ma comunque il disco è tuttora reperibile anche nel mercato dell'usato lo conoscete michele come cantante lo ascoltavate all'epoca lo avete riscoperto recentemente oppure lo avete ascoltato in occasione di questo video cosa ve ne pare beh fatemelo sapere lasciatemelo scritto nei commenti io sono molto curioso di conoscere la vostra opinione in merito per il resto vi ringrazio per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti